Il nome è quello di una donna, Lidia, ma in questo caso si tratta di un acronimo, ovvero Lavoro e Impresa per Donne in Azione. È un progetto di ACLI Bologna in collaborazione con ACLI Piacenza e vuole supportare le donne in ambito lavorativo per superare le difficoltà o per trovare l'indipendenza economica fondamentale per uscire dai casi di violenza domestica. ACLI Piacenza partecipa al progetto con uno sportello psicologico gratuito. Questo progetto nasce con il supporto della Regione Emilia-Romagna tramite un bando volto sostenere la presenza paritaria delle donne nel lavoro, proprio perché si è visto che comunque ancora ci sono dei dati che non supportano questa presenza paritaria, ad esempio anche a livello retributivo e spesso proprio anche perché la donna in primis, magari per un vissuto, magari per la società che ha intorno, non viene spinta a valorizzarsi al meglio. Quindi diciamo che le azioni nella pratica che poi verranno svolte da questo progetto saranno proprio indirizzate a valorizzare la donna attraverso, ad esempio, lo sportello psicologico. Possono rivolgersi allo sportello tutte le donne che sentono una necessità, che stanno attraversando un momento di difficoltà e prendendo appuntamento poi è possibile fare un colloquio in cui verranno accolte le loro problematiche e in base al problema portato si cercherà di capire qual è la soluzione migliore, se possono intraprendere un piccolo percorso psicologico oppure se necessitano di altre modalità. ACLI ha supporto delle donne, del lavoro, della rimozione delle disuguaglianze. La società va avanti e progredisce nella misura in cui uomini e donne avranno parità di accesso al lavoro, alla retribuzione e nella misura in cui le differenze salariali saranno abolite. Il numero da contattare è 353 440 6190 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.